Sì, c'è solo un problema stasera perché l'altare non è larghissimo, mentre noi a parte poche eccezioni non siamo molto stretti, quindi per una tribunale posta è comunque che in maniera... Ma ce la facciavano. Soprattutto noi dobbiamo cercare di dire perché poi ci sono delle stiche trone, meno male che ci guardiamo bene. Sono fisarmoniche che sono grossi. La prima volta è la mia professione. La prima volta è la mia professione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.